La sostenibilità del sistema fieristico va intesa in vari modi, sicuramente il fare una fiera consente a tante persone di incontrarsi in un unico posto ed evita di avere tante persone che girano in tanti posti, quindi sicuramente è molto più logico darsi un appuntamento ampio con tanti appuntamenti all'interno dello stesso, ma soprattutto in questo momento il sistema fieristico è al servizio dell'evoluzione e della sensibilità nei confronti del mondo green. All'interno di ogni evento che vuole essere internazionale la parte di approfondimento legata alle tematiche di sostenibilità è sempre al centro e questo consente di creare una cultura internazionale legata alla sostenibilità. Da parte nostra il nostro gruppo ha dato grande spazio a questo nuovo approccio, in questi anni abbiamo fatto grandi investimenti non soltanto nel quartiere, non soltanto nel modo di organizzare ma anche nel modo di allestire. Per noi la sostenibilità è una priorità assoluta.